il premia vince questa prima fase dei playoff in casa del brisino qui con noi ai microfoni ivo allora ivo del portiere del premia allora commento sulla partita com'è andata bella partita la squadra non l'avemmo mai incontrata giovani se la sono giocata bene ci siamo messi sotto siamo andati subito in mortaggio e siamo andati sotto anche perché oggi abbiamo giocato diversi personaggi e ci portiamo a casa con il risultato e vediamo la prossima che dovremo incontrare